al Presidente che già da aprile abbiamo iniziato questo lavoro che ci ha portato comunque a definire la rosa di questa sera. La rosa di questa sera è frutto un po' di decisioni che abbiamo preso in società, in conseguenza abbiamo deciso di cambiare un attimino, di ripartire da zero, di prendere tutta gente motivata, con voi ho avuto dei lunghi colloqui e vi ho chiesto in particolare soprattutto di avere un approccio alla prossima stagione con il massimo impegno, con la massima serietà, ho sempre detto di portare una mentalità professionistica anche se siamo in una società direttatistica, comunque questo è un modo per cercare di far gruppo e per ottenere risultati. Noi dovremmo ottenere risultati, sicuramente dovremmo fare meglio dalla passata stagione, anche perché comunque la società, solo l'Università Solare è una società ambiziosa, i numeri parlano, comunque è una delle società più prestigiose della zona e di conseguenza anche noi a livello di prima squadra dobbiamo cercare di mantenere questo vento.